Wow! Per celebrare il novantesimo anniversario della sua fondazione, la casa di Borgo Panigale ha svelato un'anteprima mondiale al World Ducati Week 2016, la nuova 1299 Panigale S anniversario. Si tratta di un simbolico regalo che Ducati ha voluto offrire alle decine di migliaia e appassionati ducatisti che hanno affollato e animato l'evento. Una moto esclusiva per una platea competente ed esigente, guidata da un testimone ad eccezione come Casey Stoner, questo nuovo gioiello made in Borgo Panigale è stato presentato assieme alla di Ducati Claudio Domenicali. Realizzata in edizione limitata in soli 500 esemplari, la 1299 Panigale S anniversario presenta livrea e contenuti tecnici inediti. La 1299 Panigale S con il bicilindrico superquadrato da 1285 cm3 e 205 cavalli di potenza è disponibile a un prezzo di 29.590 euro.